Gabriel Soboe è un brano scritto da Morricone per il film The Mission nel 1986 e candidato all'Oscar come miglior colonna sonora. Si tratta di un brano profondamente commovente. Nel film viene eseguito dal protagonista, Padre Gabriel, mentre è nella foresta. Questa sera la Wind Orchestra è lieta di presentarvi Gabriel Soboe, eseguito da un solista d'eccezione. Fabio Rizzi, che accogliamo con un applauso. Buone scelte. Amore. 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 Grazie. 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 Grazie.